L'accesso al farmaco ed un nuovo concetto di farmacista è una delle 40 best practices raccolte nel libro presentato al Ministero della Salute. Noi ne parliamo con Ugo Trama, dirigente Unità Operativa Dirigenziale 6, politica del farmaco e dispositivi della Regione Campania. In cosa il modello della Regione Campania per l'accesso al farmaco è stato considerato eccellente? Sicuramente è stato rivisto tutto il criterio di accesso alle cure farmacologiche attraverso il disegno di un nuovo tavolo della farmaceutica che vede parti attive a tutti gli attori del percorso assistenziale, dai clinici ai farmacisti agli economisti e logicamente abbiamo soppresso quelli che erano i PTO aziendali che erano solo un momento di ridondanza dell'accesso al farmaco. E il ruolo del farmacista per un presidio innovativo del territorio? Il farmacista sta cambiando, è stato anche oggetto di un grande dibattito all'interno della società scientifica e farmacisti ospedalieri perché è diventato di più il supporto alle direzioni strategiche per tutti quelli che sono i percorsi assistenziali. Il farmaco può essere anche visto come un indicatore di un percorso assistenziale oltre che come un momento di cura. Quindi il farmacista si deve reinventare e essere sempre più strategico alle direzioni generali. Cosa state facendo per mettere il paziente al centro del percorso di cura? Beh sicuramente ci dobbiamo impegnare di più affinché vengano potenziate le cure domiciliari quindi l'assistenza anche farmaceutica a domicilio. Oggi si sta riformando tutto il sistema territoriale, il DM77 e sicuramente anche quello che sono l'accesso alle cure farmacologiche deve vedere sempre di più un paziente curato a domicilio piuttosto che presso le strutture ospedalieri o territoriali. Quali tra le otto principali sfide per il sistema salute raccolte nel volume che oggi si presentano hanno ancora trovato un'adeguata risposta sul vostro territorio? Beh sicuramente come ho detto l'ADI, l'assistenza domiciliale integrata che è qualcosa che ci chiede il PNRR per combattere anche il piano delle cronicità e anche in questo caso il ruolo del farmacista è fondamentale perché il paziente a domicilio vede una presa in carico più coerente con il nuovo modello che il DM77 sta mettendo in campo.